No, 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 è un'impressione, me lo ti metto abbastanza provato. Tra due minuti penso che mi scioglio. Parliamo della tua vita, di che voi... Io vorrei parlare di un messaggio, di questo spettacolo del presente, di quello che abbiamo visto nel passato, del futuro. Diciamo che questa è una parte della visione di due anni fa. Due anni fa, magari, quando si pensava a descrivere una serata del genere, ci ritevano in faccia. Oggi, invece, stiamo dimostrando che ci siamo e ci saremo sempre più. Era questo. Signor, io mi raccomando, io ho lo stesso problema di due, perché io ne ho uno in particolare. Uno di più, magari. C'è un problema che ho sempre io, quando la gente dice ricordare io, a meno. Quando la gente dice l'uomo, poi c'è la pietra. Ma meno male che dicono così, ma scherzi, ma è essere fieri di questo. Ma secondo te? Parliamo di due persone che a Messina hanno fatto la storia. Tuo padre ha fatto la storia televisiva e lui ha fatto la storia garcistica. Quindi ci saluto più alle gambe. Saluto più a tutti. Ci saluto più a tutti.